Buongiorno, mi chiamo Degna Orsini, operatrice certificata della scuola Reiki, opero in Liguria. Nel 2016 ho deciso di iscrivermi al corso con la relazione perché volevo approfondire maggiormente le mie conoscenze in questo ambito. Ritengo che sia stato un corso molto importante per la mia formazione professionale, in quanto ha veramente evidenziato quali sono le dinamiche che si creano all'interno di una relazione di cura, come gestirle ed affrontarle nel migliore dei modi. Per poter essere un operatore più capace. Successivamente al corso Curare la relazione ho poi deciso di proseguire la mia formazione con il percorso Operatori certificati in Reiki, con il quale per un anno intero ho seguito supervisioni individuali e di gruppo che mi hanno consentito di sviluppare ulteriormente le mie conoscenze in merito alla relazione di cura e soprattutto di potermi confrontare con altri operatori, in questo caso operatori Reiki, che frequentavano il percorso con me. E indubbiamente questo confronto è stato molto interessante perché ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze e di poterci soprattutto confrontare sulle varie tematiche in maniera ancora più approfondita. Ringrazio tutti per avermi ascoltato e mi auguro che possiate veramente essere in tanti ad iscrivervi al corso Curare la relazione. Coloro che lavorano nella relazione di cura potranno avere davvero degli enormi vantaggi perché creare una buona relazione di cura non si può improvvisare. È importante avere delle buone basi, delle solite basi, professionali e serie. E questo corso le fornisce sicuramente. Ringrazio la Scuola Reiki per aver istituito questo corso ed anche il percorso per diventare operatori certificati della scuola. E arrivederci a tutti. Grazie ancora.